è partita la finale i Juniors con una gran partenza del più 100 metrista di tutti valer dire Cristian Cuppone dietro di lui due protocollori dell'avvianza in line lui la Cuppone fa della partenza e del primo giro il punto forte delle proprie gare rimane davanti Cristian Cuppone quando suona la campana Cuppone poi Citterio poi Stocco questi primi tre vediamo deve distendersi Cristian ci prova con tutte le forze e due le Citterio all'interno bello il sorpasso riuscito perfetto al millimetro da parte dell'avvianza in line e siamo al trascordo finale arrivano insieme e probabilmente Samuele Stocco adesso aspettiamo il aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.